Tutto è pronto, possiamo partire! Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. 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 Non è vero. Non è vero. Non è vero, 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 non è vero. 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 Andate a ritri. Allora, lavoro e prendere la seconda uscita. Uscisci adesso. 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 Uscisci. 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 Uscisci now. Uscisci. Uscisci adesso. Uscisci adesso. Uscisci. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.